Il libro scritto sul pensiero politico di Niccolò Machiavelli, uno dei più grandi politici che l'Italia abbia avuto dal punto di vista ideologico e che ha molto influenzato l'Italia rinascimentale lasciando il segno. Ancora oggi molti politici italiani e stranieri lo prendono come modello. L'opera sua più grande è stato il Principe in cui lui enuncia i principi fondamentali a cui un buon governante si deve ispirare per mantenere il potere se non lo vuole perdere. Quindi diciamo è un manuale che può servire non solo al popolo per capire l'arte di governare ma soprattutto ai politici. Mussolini si ispirò molto a lui. Quando Mussolini esprimeva il discorso del bastone della carota lui si ispirava a Machiavelli. In questo libro potrai vedere tutti questi particolari di pensiero politico e l'arte del governare a cui Machiavelli si ispirava, essendo stato non solo un teorico della politica, uno dei primi scienziati della politica, ma anche uno che mise sul capo le proprie idee politiche. In questo video ti ho parlato del libro che ho scritto sul pensiero politico di Niccolò Machiavelli. Se sei interessato lo puoi scaricare dal mio sito. Grazie. 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 Grazie.